musica ok questa è una delle anzi no la prima chitarra in acrilico o plexiglas che ho realizzato per il mio cliente e soprattutto amico yogi da vienna ciao yogi ho utilizzato le solite misure delle mie chitarre poi con il tempo per sopperire alla pesantezza di questo materiale estremamente pesante e costoso ho abbassato lo spessore dei dei corpi e cercando di arrivare a tre centimetri di spessore che uno spessore molto basso per una chitarra però è fattibile per sopperire proprio alla pesantezza del materiale e il risultato è abbastanza sensibile sono molto più leggere e maneggevoli musica la solita caratteristica del grande sustain è molto versatile come chitarra molto vasta come frequenze ha delle super basse e questa si è proprio la mia prima plexiglas che ho realizzato i pick up sono i nostri nude pick up tastiera in ebano con blocchi in lay in alluminio una chitarra molto semplice volume selettore e due pick up e poi abbiamo già detto di essere un'ottaggio una chitarra molto regretta però è un'ottaggio che siiumi è molto più semplice è qui per il cambio del capotasto da osso in ottone e per mettere i tasti in acciaio inox che adesso metto di default su tutte le mie gitarre